Non è grado chiaro per il bocci, lo fai per migliorire, migliorire con parte Ci vediamo a contare, maestro? E un ruolo e tre e quattro, e cinque e sei e sette o Un ruolo e tre e quattro, e cinque e sei e sette o Ah, vai, bichi! Non andate a rubare, ma è che so qua Si va a tenuto soldare, se non vede di una visione E quando fa a seconda, vai ne aguantare E a vento è arrivato, e non sta a posta per se non Se non aguantare, se non vede di una visione E quando fa a seconda, vai ne AGirectare, se non vede di una visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti